siamo già arrivati da mezzo minuto e con Alessio non volevo fare la gara perché non c'è storia non c'è storia quindi adesso convinceremo Alessio a pagare le prossime colazioni e stare 29 minuti e 35 secondi, 36, 37, hai perso, vieni Alessio, vieni Alessio, vieni Alessio forte sono io, dai dai dammi, io dai più forte, dai dai dammi, non ho voluto fare la sfida, perché io la vincevo tanto noi andassimo a destra? io voto per Marco, io voto per Marco, perché ti ha pagato? ci batterebbe altro, comunque è vero, grazie Torri, torna, torna a noi, guarda, torna a noi, basta tu paghi, torna a noi, vieni a noi quando c'è stato l'acronometro questa, era un acronometro di Giro d'Italia, tu finisci a vederla certo, però come giravano? andavano in là? andavano qua andavano qua, ci facevano panzano, grazie poi, certo ascolta, noi più o meno anche, allora, allora, allora allora, allora